Sulla questione parcheggio a pagamento, a Isernia la FIA del Torna la Carica. Con in mano copia del dispositivo della sentenza del giudice di pace, che dichiara illegittimi gli atti amministrativi con cui il Comune ha istituito i parchimetri, Felice Antonio Di Schiavi invita la nuova amministrazione civica a disapplicare il sistema delle soste blu. Lo ha fatto ufficialmente con una lettera inviata in queste ore, insieme all'Associazione Caponnetto e al Partito Comunista dei Lavoratori. Destinatari, i nuovi inquilini di Palazzo San Francesco. Oltre ad essere illegittimi, per tali parcheggi non c'è neanche la sottoscrizione del contratto tra Comune e Gestore, tuona il coordinatore di quel sindacato. Chiediamo quello che abbiamo sempre chiesto, perché gli stalli blu sono tutti illegittimi. Ormai è cosa risaputa. I giudici si sono pronunciati in merito e ci hanno dato pienamente ragione. Non solo, ma il giudice di pace ha disposto la disapplicazione degli stalli blu, perché gli atti istitutivi delle stesse sono tutti illegittimi. Lo dice il giudice di pace con le sentenze che non è una, ma ne sono ormai accendinaia. E poi la cosa più importante è che manca il contratto, tanto è vero che manca questo contratto. Ormai sono quasi tre anni. Il Comune non l'ha potuto mai fare e firmare questo contratto, proprio perché gli atti sono illegittimi. E quindi anche questa nuova amministrazione assolutamente non deve firmare questo contratto con la ditta. Deve immediatamente abolire, rimuovere, togliere questo proprio per la città di Sernia, ovvero queste strisce blu che tanti danni stanno procurando ai cittadini, e ai commercianti e ai pendolari. E l'appello di dischiavi probabilmente non cadrà nel vuoto. In effetti trapela che il Comune starebbe valutando l'ipotesi disdetta. Consulenti della nuova amministrazione starebbero vagliando la strada dell'annullamento del contratto, che in realtà, come detto, non è stato mai firmato.